Nella trasmissione della fede c'è sempre il Signore con noi. Nella trasmissione dell'ideologia ci saranno i maestri, ma quando io ho un atteggiamento di fede che va trasmessa, c'è il Signore lì che mi accompagna. Mai nella trasmissione della fede sono solo. È il Signore con me che trasmette la fede. Lo ho promesso, io sarò con voi tutti i giorni fino alla fine del mondo. Preghiamo il Signore perché ci aiuti a vivere la nostra fede così, una fede da porte aperte, una fede trasparente, non proselitista, ma che faccia vedere, ma io sono così. E con questa sana curiosità aiuti alla gente a ricevere questo messaggio che li salverà. Grazie. Grazie. Grazie.